benvenuti nel canale poplite fumetti quella che state vedendo è la mia collezione mi piace chiamarla biblioteca perché allo scopo di tenere a disposizione tutto quanto per essere letto o consultato in qualsiasi momento senza dover aprire scatole o estrarre albi dalle buste fra le poche eccezioni le annate delle riviste che sono state in gran parte impacchettate con plastica molto spessa per avere maggiore praticità quando occorre spostarle per me il fumetto nella sua materialità non è solo un oggetto da collezione ha soprattutto un valore d'uso i fumetti non voglio solo possederli ma anche leggerli sfogliarli e consultarli quando ne ho voglia per ottenere questo devono restare sempre a disposizione e se il prezzo da pagare è l'usura della carta lo accetto ed alla fine non mi dispiace vedere i miei fumetti invecchiare insieme a me la biblioteca è formata oggi da oltre 18.700 singoli pezzi accumulati dagli anni 80 in poi ed è caratterizzata dalla presenza di quasi tutte le collezioni complete delle riviste cosiddette d'autore e da moltissimi libri a completare la panoramica ci sono anche giornalini fanzine riviste amatoriali ristampe anastatiche e cronologiche libri di saggistica pubblicazioni curiose cataloghi di mostre e di vendita tutto quello che vedete è sistemato negli scaffali seguendo unicamente il criterio dell'ottimizzazione dello spazio la confusione è solo apparente perché in un file di excel sono catalogati i singoli pezzi uno per riga e ciascuno con un codice corrispondente alla posizione in cui si trova nel box informazioni c'è un collegamento a questo file che è condiviso su one drive i prossimi video saranno tante piccole collezioni una per ogni ripiano dello scaffale salvo alcune eccezioni andremo a scoprire serie più o meno ampie moltissimi volumi unici tante curiosità e qualche pezzo abbastanza raro per chi vorrà seguirmi sarà un lungo viaggio nel mondo del fumetto